Ho il bacino ruotato, tanti dei miei pazienti vengono in studio magari anche un po' preoccupati e mi dicono mi è stato detto che ho il bacino ruotato, che cosa posso fare per andare a migliorare questa situazione? In questo video risponderò a tutte le persone che si pongono questa domanda. Sono Francesco Lanzini, fisioterapista e fondatore di Fisiosocial e se vuoi migliorare sia dal punto di vista del benessere fisico che del benessere mentale ti invito a iscriverti al nostro canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su tutti i nostri contenuti. E dopo questa piccola marchetta possiamo iniziare a parlare del nostro bacino ruotato. Innanzitutto che cosa si intende per bacino ruotato? Si parla di bacino ruotato in gergo quando si intende indicare una rotazione dell'osso iliaco di cui ti metto una foto qua sopra rispetto all'osso sacro. Infatti ne abbiamo due osse iliache ai lati e in mezzo l'osso sacro. L'osso iliaco può darsi che sia ruotato un po' più anteriormente oppure posteriormente rispetto all'altro. Quindi si può configurare una situazione in cui abbiamo l'osso sacro e poi un osso iliaco un pochino ruotato in avanti e l'altro un pochino ruotato indietro. Per questo si parla spesso di bacino ruotato. In altri casi si può parlare di questo quando c'è un osso sacro che non è completamente dritto diciamo rispetto alla linea verticale ma è un pochino ruotato da una parte. Ma cosa bisogna fare quindi se l'ortopedico oppure l'osteopata mi dice che ho il bacino ruotato? Innanzitutto bisogna chiedersi se si ha dolore. Sembra una banalità ma non lo è perché in molti casi il bacino ruotato non è sinonimo di bacino doloroso perché come nell'esempio dell'ernia ci sono alcune persone che hanno un'ernia e non hanno dolore alla schiena mentre ci sono alcune persone che hanno dolore alla schiena e non hanno l'ernia. Qui vale più o meno lo stesso concetto quindi ci sono alcune persone che hanno il bacino ruotato e non hanno alcun dolore ok e viceversa ci sono persone che hanno dolore e non hanno il bacino ruotato. Con questo non voglio dire che non bisogna assolutamente dare importanza alla situazione però è bene stare attenti a non esagerare con la preoccupazione perché se si ha il bacino ruotato può darsi che comunque si sia sani ok perché noi non siamo simmetrici non siamo uguali a destra e sinistra e può darsi che anche con un osso iliaco un pochino ruotato in avanti riusciamo a vivere la nostra vita serenamente e senza nessun dolore. Quindi se il bacino ruotato e non hai dolore probabilmente nella maggior parte delle situazioni non ti devi preoccupare perché non è una situazione problematica o grave perché il tuo fisico sta comunque riuscendo a gestire questa situazione andando a ricreare da sé un equilibrio che riesce a sopportare senza nessun problema senza nessun dolore. Invece se ti rendi conto che hai il bacino ruotato quindi un osso liaco per esempio un po' ruotato in avanti e questo ti dà anche del dolore perché per esempio succede che può esserci correlato una scoliosi oppure c'è il bacino un po' ruotato e quindi ho anche una differenza tra i muscoli da una parte e dall'altra perché succede che ci sono dei muscoli a destra e a sinistra se un osso è un pochino ruotato può darsi che si vadano a creare delle rigidità maggiori da una parte rispetto che dall'altra e queste rigidità possono andare a creare dolore per esempio perché intaccano vanno a dare fastidio tra virgolette ad un nervo che può essere il nervo sciattico nella maggior parte dei casi. In questi casi bisogna creare un programma personalizzato di esercizi che è proprio come quelli che creiamo noi nelle nostre consulenze e questi esercizi serviranno per togliere la rigidità e allo stesso tempo dare forza ai muscoli perché molto spesso rigidità è anche sinonimo di debolezza molto spesso i muscoli rigidi sono anche dei muscoli deboli quindi cosa bisognerà fare fare degli esercizi 1 di mobilità che diminuiranno la rigidità del muscolo e aumenteranno la mobilità delle articolazioni del bacino dell'osso sacroiliaco e dell'articolazione dell'anca 2 degli esercizi di rinforzo per andare a rendere più stabili i muscoli che vanno a stabilizzare l'articolazione sacroiliaca e l'articolazione dell'anca e 3 anche degli esercizi di allungamento muscolare. Voglio specificare che io sono uno studente di osteopatia e quindi so che in molti casi in quando ci sono queste problematiche di bacino ruotato vengono proposte delle manipolazioni anche un po' violente che sono volte a riequilibrare il bacino cioè riportare il bacino in asse e questo viene proposto dagli osteopati dai chiropratici e anche da alcuni fisioterapisti chi più ne ha più ne metta però voglio specificare che queste manipolazioni hanno un effetto che ha una durata molto limitata quindi anche qualora si riuscisse a riequilibrare le due ossa del bacino che magari da questa posizione ritornano nella posizione neutra perché può darsi che alcune manipolazioni abbiano questo effetto poi però dopo un po' nella maggior parte dei casi quello che succede è che la posizione ritorni a quella normale e anche se si va ad agire sul dolore che il dolore magari diminuisce la diminuzione del dolore sarà sempre temporanea quindi dopo che è passato l'effetto di questa manipolazione la situazione tornerà a quella di prima. Il mio consiglio quindi è di fare un lavoro che migliori la tua persona migliori la tua condizione la condizione delle tue articolazioni sacroiliache del tuo gluteo e della posizione e dell'articolazione dell'anca perché tutto questo sarà quello che poi ti permetterà di liberarti del fisioterapista perché questo è il nostro obiettivo il nostro obiettivo non è che tu vada per tutta la vita dall'osteopata tutta la vita dal chiropratico ma che tu non abbia più bisogno del fisioterapista e che ti crei delle articolazioni sane che ti permettano di vivere senza dolore. Perché ti sto dicendo questo? Perché il fisioterapista ti dà il trattamento ma un vero fisioterapista ti dà l'insegnamento per liberarti dal fisioterapista quindi spero che questo video ti sia stato utile se ti è stato utile e se ti è piaciuto lasciaci un like se vuoi vedere degli esercizi per andare a lavorare sul dolore al gluteo e migliorare la struttura del gluteo ti invito a guardare questo video che ti lascio qua sopra e fare anche un giro sul nostro canale youtube perché ci sono tanti video su diversi argomenti che parlano di dolori muscoloscheletrici che potrebbero esserti utili. Se ci vuoi fare una domanda scrivicela qua sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video